Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti segni miei ai quali dovremo dare un'accelerata con i video, infatti in questa settimana troverete tre video da settimana se non sbaglio perché a ottobre uscirà FIFA 21 e quindi il mio intento è quello di prenderlo per iniziare delle nuove serie quindi noi dobbiamo cercare di portare avanti questa avventura con i gamberetti e portarla a termine completando il nostro obiettivo prima di partire il video ragazzoli vi ringrazio per il like, per il supporto, per i commenti e per i suggerimenti che mi date per questa serie e vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook o solamente eventualmente per eventuali aggiornamenti riguardanti le live o comunque qualche cretinata con il canto pubblico e se volete sostenere il canale delle piccole donazioni potete farlo, comunque per tutto l'ombra, trovate i link in descrizione detto questo partiamo con il video Allora signori, noi siamo al 2 di gennaio al 2 di gennaio, prima di partire con il mercato che è qualcosa di molto importante in questo momento della nostra stagione perché noi in campionato siamo, siamo, siamo a 9 a 38 punti siamo a 10 punti alla zona playoff mamma mia, siamo lontanissimi allora, facciamo un attimino mente locale noi abbiamo una rosa che se non è ben completa abbiamo due portieri, Bremen che è andato in prestito i due esterni sinistri in difesa abbiamo Salazar che è rotto ok, per 3 settimane poi abbiamo Lima, Hamilton e Harwood ok, Watz che l'abbiamo mandato in prestito sulla destra abbiamo Drollo e Abru che è appena arrivato alle giovanili se non sbaglio il capellone, mamma mia che è troppo forte poi abbiamo Anponsa, Kanigan in prestito sulla sinistra abbiamo Nicolas d'Esposito e vanno bene centrocampo, Mariani, Raid, Alvarez Teco Dudu Teco Dudu, ok se lo resta messi bene comunque Alvarez, Raid, Mariani e Anponsa perfetto sulla destra abbiamo Kuruma che deve crescere un botto Kuruma, signori miei e Casadei che per ora è rotto, ottimo 13 giorni ancora in realtà abbiamo Naga Johnson che ormai è la nostra mascotte che ci terremo ormai anche se protesta in qualsiasi lingua verrà a protestare al nostro ufficio noi ce lo teniamo Morris, Claudio Peter Pan e Teco Dudu perfetto, ok ok, ora io direi di acquisti signori non ne facciamo perché la squadra è messa bene dovremmo anche andare a vedere un attimino i giovani talenti che abbiamo perché abbiamo una rosa piena di gli talenti abbiamo Lino Lilvera 15 anni quindi sta bene dov'è? 15 anni 15 anni 15 anni Daniel Amaral TS 77 e 94 questo me lo tengo buono buono Joan Marcos allora questo dobbiamo metterlo ad allenare raga questo dobbiamo metterlo ad allenare perché se no ne diventerà molto forte e poi Rafael Villalba anche questo promette abbastanza bene 16 anni e 16 anni solo che lui è un 56 e lui un 57 promettono tutti e due molto bene allora comunque mettiamo ricordiamoci di mettere a allenare Marcos Marcos dobbiamo andando a far crescere lui poi altra cosa nei commenti mi avete suggerito due nomi che ora andiamo a vedere facciamo ricercare vediamo se conviene neanche so quanti soldi abbiamo di mercato raga ovvero mi avete suggerito 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 no devi andare qua sopra no porca miseria De la vega vediamo se lo troviamo della vega allora oh pedo della vega 21 anni attaccante destro ok gioca nel Bologna argentino molto ottimo potenziale va bene mettiamo nel lista e lo facciamo seguire e l'altro mi avete suggerito ringrazio Frenchy2409 per i suggerimenti e Danzi raga se comunque avete dei nomi da suggerirmi ovviamente scrivetemi nei commenti e vediamo se riusciamo a trovare qualcuno che può aiutare la nostra branca la nostra avventura dei nostri gamberetti allora abbiamo Andrea Danzi ed Elio Danzi vediamo Andrea Andrea Danzi del Verona contratto di scadenza fra 6 mesi facciamo ricercare e vediamo cosa come 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 è messo e vediamo anche l'altro Danzi Danzi che era Elio di 20 anni difensore centrale del Crotone questa è una nuova promessa quindi mi sa che farà schifo in una maniera più totale quindi forse era quello lì del Verona va bene comunque abbiamo messo a cercare vediamo cosa ci portano il nostro osservatore di interessante su di loro su di loro detto questo signori andiamo avanti con il mercato abbiamo 6 giorni prima di poter fare gli altri allenamenti vediamo come come vanno le cose per ora è tutto fermo perché è tutto fermo pur qua è tutto ok siamo ripartiti forse non riusciamo a fare gli allenamenti prima della prossima partita non riusciamo a fare gli allenamenti ricordiamoci Marcos signore da mettere in prestito da mettere in allenamento ok niente stiamo arrivando alla prossima partita contro Laddersfield che non so dove si è messo in campionato noi dobbiamo cercare di portare più punti possibili a casa raga riuscissimo a raggiungere i playoff sarebbe un miracolo allora Salazar è rotto quindi Salazar mio non puoi giocare allora Lima però si facciamo giocare Harwood Hamilton si può arrabbiare quanto vuole poi abbiamo Drollo Lima Watanabe Nicholson Red Ambonza Red è un poco stanco facciamo giocare Mariani Ambonza Kuruma Morris Claudio Naga ha rotto le scatole che voleva giocare Naga è un 75 ma che stiamo dicendo raga Naga gioca per forza allora Naga è un 75 è un mostro Naga al posto di Morris al posto di Morris Claudio invece che un destro gioca a sinistra perfetto ok Morris ce lo portiamo in panchina Naga è un 75 mamma mia grande Naga mi sorprende questo ragazzo allora raga mi raccomando niente scherzi dai siamo ospiti contro Laddersfield riusciamo a portarci tre punti a casa loro vengono da una sconfitta per 4 a 0 contro il Manchester e contro il Nottingham Forest che ci fa ma noi vinciamo 2 a 1 bella così punti per noi a casa gol di Nicholson e Claudio ok Naga è uscito per Morris Ambonza per Raid ed è espulso Harwood al 29 è stato buttato fuori Harwood ma l'abbiamo portato a casa 2 a 1 quando si dice una squadra che lotta fino alla fine grande ragazzone in 10 contro 11 ci siamo portati i punti a casa allora vediamo un attimino qui cosa mi siamo messi abbiamo Abru esposito Peter Pan Kuruma e Morris ok e sono tutti leviamo esposito leviamo esposito e facciamo crescere e facciamo crescere attaccante Marcos dai Marcos posizionata finalizzazione posizionata ok Marcos va bene Abru deve crescere per forza Kuruma deve crescere per forza a posto di Peter Pan che è comunque arrivato a 67 io direi di andare a lavorare sui nostri centrocampisti ovvero per esempio per esempio un Mariani che ancora è bassino lo facciamo crescere no non tanto in questo lo facciamo crescere in qualcos'altro controllo palla dribbling e agilità se no controllo palla dribbling velocità scatto se no intercettazione controllo piedi scivolata ecco dai un centrocampista deve saperle fare queste cose Marco Morris sale a 75 grande Morris grande Morris gli altri invece si sono fatte ancora le ferie sono ancora in ferie gli altri invece di pensare ad allenarsi stanno ancora in ferie perfetto andiamo a vedere le mail che sono arrivate giocatore infortunato due giorni per un ponza meno male e invece Harwood è stato squalificato per una partita ottimo ottimo grande bravo bravo Harwood saliamo all'ottavo posto signori saliamo all'ottavo posto a 7 punti dalla zona playoff 7 punti alla zona playoff signori miei momento caldo della stagione premio torneo mi hanno dato un premio torneo dei che interrompi simulazione si la interrompe un attimo voglio capire che premio mi hanno dato che cosa mi hanno dato che premio mi hanno dato scusatemi ha ricevuto ulteriore fondi in seguito a questi fondi ah perché siamo qualificati per l'fk ok va bene poco e niente di interessante però riuscissimo ora a portarci altri 3 punti a casa contro il preston mi fate vedere semplicemente quanti soldi abbiamo noi 9 milioni porca miseria i soldi ce li abbiamo raga soldi potremmo fare un mercato spettacolare allora hardwood è stato squalificato bravo hardwood complimenti a te quindi fuori hardwood dentro a emilton per la gioia di emilton fuori che non giocherà questa partita ci portiamo ci portiamo michel ci portiamo michel raid è incavolatissimo perché non sta giocando e quindi lo facciamo giocare a posto di mariani anche se sei stanco nicholson va bene kuruma deve giocare per forza non che esposito sa fare anche il destro vero esposito sa giocare pure sulla destra allora facciamo giocare una partita a esposito kuruma ce lo teniamo in panchina abru watanabe va bene morris è un poco morris è diventato un 75 allora facciamo uscire claudio e facciamo giocare morris così abbiamo 2 75 in attacco raga non ce n'è per nessuno 2 75 in attacco non ce n'è per nessuno dai raga portiamoci a casa in casa contro il preston raga tre punti sarebbero fondamentali i tre punti loro vengono da un pareggio 2 a 2 contro il queen park rangers dai raga che ce famo noi pareggiamo no pensavo di aver vinto 1 a 0 mannaggia l'illusione abbiamo pareggiato 1 a 1 contro il preston erano andati in vantaggio nel vendesimo con naga hanno pareggiato loro al 55 è uscito il raid per mariani ammoniti amponsa ed emilton e va bene 1 a 1 1 a 1 va bene va bene un altro punticino portato a casa però non ci famo niente con un punticino a volta con un punticino a volta non ci facciamo assolutamente niente porca miseria abru diventa un 55 grande abru grande abru amico mio dai 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 continua a salire continua a salire abru che prima o poi lo vedrai il campo prima o poi lo vedrai il campo non so quando ma prima o poi lo vedrai vediamo qua le mail squalifica scontata per arwood e naga è contento che è tornato titolare bravo naga su col morale dai stai diventando un gran bel giocatore naga arriviamo ragazzoli alla prossima partita contro i manteniamo 7 punti dall'itz abbiamo ancora 7 punti dall'itz la prossima partita contro lo Swansea che è quinta in classifica quindi praticamente ci andiamo a giocare uno scontro diretto ma signori miei per questo video mi fermo qua io vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti per il supporto datemi eventualmente dei consigli se magari c'è qualche giovane a poco prezzo che possiamo comprare che ci può aiutare alla causa detto questo noi ragazzoli ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao 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 ciao